Ciao a tutti, in questo video vi voglio suggerire 10 cose da fare se vi trovate a Bruxelles, in Belgio, o nei suoi dintorni. Numero 1. Cercare il Ginnekepiss e il Zinnekepiss. Lo sapevate che a Bruxelles non c'è solo il mannekenpiss, e cioè il bambino che fa la pipì, che di tanto in tanto viene vestito con dei magnifici abiti fatti su misura? Infatti, non perdetevi anche la bambina, Ginnekepiss, e il cane, Zinnekepiss. Fatemi sapere nei commenti se siete riusciti a trovarli. Numero 2. Mangiare le patate fritte belghe. Uno degli street food belgi più apprezzati sono le patate fritte, servite nel classico cono di carta. Chi le ha provate, sa che sono buonissime, sia per la varietà di patate speciali che crescono in Belgio, sia perché sono fritte due volte. La prima nell'olio, e la seconda nel grasso. Ecco, di sicuro non sono proprio dietetiche. Numero 3. Mangiare il waffle. Altro street food molto apprezzato è il classico dolce a forma di nido d'ape. In Belgio troverete due tipi di waffle abbastanza diversi tra loro, quello di Bruxelles, rettangolare, e quello di Liegi, rotondo. Vi consiglio di assaggiarli entrambi. Altro consiglio è quello di farcire a piacere il waffle di Bruxelles, ma di gustare senza guarnizioni quello di Liegi, che già di suo è più dolce e con lo zucchero croccante sulla crosta. Inoltre, a Bruxelles, c'è anche un negozio che crea dei waffle dalle forme, diciamo, particolari. Numero 4. Grand Place by Night. Da non perdere, nelle ore serali, una tappa nella piazza principale di Bruxelles, la Grand Place. Resterete estasiati dalla vista dei palazzi che circondano completamente la piazza, sapientemente illuminati per far risaltare le numerose torri, guglie, statue e intarsi dorati. Numero 5. Atomium. Anche se un po' fuori mano, è da visitare l'iconica e imponente struttura in acciaio che rappresenta un atomo, costruita per l'Expo del 1957. All'interno sono presenti mostre di modernariato e temporanee, collegate tra loro tramite scale mobili illuminate da laser futuristici. Inoltre, all'ultimo piano, da un'altezza di 92 metri, si può godere del panorama a 360 gradi, anche se a dire il vero non c'è molto da vedere nei dintorni. È possibile raggiungere l'Atomium tramite metropolitana o bus, con un tempo di percorrenza compreso tra i 30 e i 60 minuti. Attenzione perché durante le festività, la fila per l'ingresso potrebbe essere molto lunga. Numero 6. I murales di Bruxelles. Attività completamente gratuita è la ricerca dei 60 murales che tappezzano gli edifici di Bruxelles. Non ci sono molte indicazioni a riguardo, e spesso sono indicazioni parziali. Si tratta quindi di una vera caccia al tesoro. Perdetevi per le vie della città, e ogni tanto vi imbatterete in una splendida opera a cielo aperto. Numero 7. Elf de Ghebaud, ad Amversa. L'Elf de Ghebaud, che significa undicesimo comandamento, è un ristorante pub situato accanto alla cattedrale di Nostra Signora ad Amversa. Il locale, unico nel suo genere, ha gli interni straripanti di statue di santi ed angeli, di pulpiti ed altari e di immagini celesti scherzosamente sacrileghe. Sicuramente uno dei ristoranti più particolari al mondo. Si può agevolmente raggiungere Amversa da Bruxelles con il treno. Il tempo di percorrenza è di circa 40 minuti e il costo del biglietto andata e ritorno è attualmente pari a 17,80 €. Se però viaggiate dal venerdì alla domnenica, il costo del biglietto si abbassa a 10,20 €. Potete verificare gli orari e le tariffe nel sito ufficiale delle ferrovie belghe www.belgiantrain.be. Dalla stazione centrale di Amversa, con una piacevole passeggiata, in circa 20 minuti si raggiunge la cattedrale. E questi sono i cestini di Amversa. Numero 8. Dullegrit a Ghent. Altro locale molto particolare è il Dullegrit a Ghent, un antico pub dal carattere gotico e medievale. La caratteristica principale di questo pub è che si prendono impegno una tua scarpa dopo l'ordinazione e te la restituiscono solamente quando hai pagato. La scarpa sequestrata viene messa in un cesto che viene poi issato verso il soffitto al centro della stanza. Da Bruxelles, è possibile raggiungere Ghent in treno. Il tempo di percorrenza è di circa 35 minuti ed il costo del biglietto andata e ritorno è attualmente pari a 21,60 €. Se però viaggiate dal venerdì alla domenica, il costo si abbassa a 12,20 €. Dalla stazione potete raggiungere il centro prendendo un bus. All'andata o al ritorno potete anche decidere di fare la strada a piedi in circa 35 minuti, per visitare anche il Parco Cittadino e l'Abbazia di San Pietro che trovate lungo il percorso. Numero 9. Graffiti Street a Ghent. Se vi resta del tempo, nei pressi del pub Dullegrit, trovate una strada lunga circa 120 metri completamente tappezzata di graffiti con colori vivaci e dai disegni più disparati. I graffiti vengono continuamente rinnovati, creando nuove opere con lo spray, disegnando letteralmente sopra i vecchi disegni. È molto probabile imbattersi in qualche artista di strada al lavoro e scambiarci qualche chiacchiera assieme. Numero 10. Giro in barca a Bruges. Ultimo della lista, ma probabilmente il primo in termini di bellezza, è il Giro in barca nei canali di Bruges, uno dei borghi più belli e meglio conservati che io abbia mai visitato. Proprio i canali e i riflessi delle case sull'acqua rendono l'atmosfera magica. Dedicate una giornata per la visita di questa meravigliosa cittadina. Da Bruxelles, si può raggiungere Bruges in treno. Il tempo di percorrenza è di poco superiore ad un'ora, e il costo del biglietto andata e ritorno è attualmente pari a 34 euro. Se però si viaggia dal venerdì alla domenica, il costo si riduce a 18 euro e 40 centesimi. Dalla stazione dei treni vi consiglio di procedere a piedi verso il centro per ammirare le numerose bellezze che si susseguiranno lungo il percorso. Numero bonus. Light Show a Grand Plus. Se vi trovate a Bruxelles durante il periodo delle festività natalizie, imperdibile è il light and sound show che si tiene nella Grand Plus. L'ingresso è sempre gratuito, e lo show si ripete ogni ora o mezz'ora, a partire dal pomeriggio e fino alla tarda serata. Se avete altri suggerimenti non esitate a scriverli nei commenti. Vi ringrazio per essere rimasti collegati fino alla fine del video e vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.